Per questa trasferta di Cesena Maestrelli aveva qualche preoccupazione e allora ha mandato in campo una squadra chiusa, bloccata, con Petrelli finta alla sinistra ma in pratica tercino e Nanni in posizione avanzata a contrastare alle pericolose incursioni del tercino Ceccarelli. Dal punto di vista tattico non ci sono stati errori, si è giocato a gran ritmo dal primo all'ultimo minuto ma le conclusioni a rete da una parte e dall'altra sono state scarse e lo spettacolo alla fine ne ha un po' sofferto. Al ventotesimo del primo tempo Frustalupi ha lanciato Chinaglia in piena area invitandola al gol. Chinaglia si è smarcato bene ma il portiere Mantovani non gli ha lasciato il tempo di concludere. In apertura del secondo tempo il Cesena ha la grande occasione col centravanti Bertarelli, palo esterno e palla sul fondo. Le difese non cedono e gli attaccanti finiscono per arrendersi. Su questa palla filtrante di Frustalupi scatta come una molla Mantovani. Come in questo dialogo fra Chinaglia, Frustalupi e Garlaschelli è il suggello di uno zero a zero quasi inevitabile.